Maya e Lina Maya, Lina Mamma, sei tu? Vi ho spaventato? Sì! Lina, si è persino fatto la pipì a toffo Oh, andiamo a cambiarla Adesso È bella pulita Mamma, perché sei travestita così? Tra poco sarà Halloween E tutti devono indossare costumi spaventosi Anche noi li vogliamo Va bene, aspettatemi qui Sì! 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 E' il costume per me? Alzati E gira su te stessa Che bella! Bella E adesso Il trucco Prima Lina Ecco fatto E adesso Maya games pollution A È في lina Sì! Sì, 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 sì. E adesso, i dolcetti! Dolcetto scherzetto? Dolcetto! Ci hanno dato i dolcetti! Dolcetto! Oggi è il petto! Dolcetto o scherzetto? E tu, quanti dolcetti hai raccolto per Halloween? Guarda quanti ne abbiamo noi! Metti mi piace e iscriviti al nostro canale! Ciao! Dolcetto o scherzetto? Maia e Lina Ciao! Sei già pronto per Halloween? Io e Maia oggi andiamo a prendere i dolcetti! Metti! Non c'è da Maia! Lina, perché non ti sei ancora vestita? Metti! Ma come siete belle! Fatevi un po' vedere! Perfette! Maia, per caso hai dimenticato la borsetta per i dolcetti? No! Invece io ho dimenticato la falce! Andiamo! Che ho? Dolcetto o scherzetto? Dolcetto o scherzetto? Dolcetto o scherzetto? Dolcetto o scherzetto? Andiamo a mangiare i dolcetti? Sììì! Sì Ma vi siete già mangiate tutti i dolcetti! E se viene qualcuno a bussarci e vuole i dolcetti, che cosa gli offriamo? Non lo so! Andiamo a preparare qualcosa di dolce! Andiamo! Che cosa prepariamo? I biscotti! Hai sentito? Sì! È già arrivato qualcuno! Guarda Maya! È venuto l'unicorno per prendere i dolcetti! Di che forma facciamo i biscottini per lui? A forma di fantasma! Come sono venuti buoni! Serviti pure! Grazie! Ciao! E adesso di che forma li facciamo? A forma di cappello! Hai sentito? Qualcuno ha suonato! Vado ad aprire! Guarda Maya! È venuta Peppa! E tu stai preparando i biscottini a forma di cappello proprio come il suo! Guarda Maya! Peppa, guarda! Ti piacciono i nostri cappellini? Sì, molto! Adesso le porto a George! Quale formina ci è rimasta? La zucca! E il pipistrello! E all'ina li faremo a forma di zucca! Sono arrivati altri ospiti! Maia! È venuta a trovarci Katia! Guarda che bella borsetta! Bella! Posso farla vedere all'ina? Ti piace? E a te cosa piace di più? Ricevere i dolcetti! O offrirli! Metti mi piace! E guarda i nostri prossimi video di... Maia e Lina! Ciao! Dolcetto o scherzetto?